Siamo qui con Anna Yermakova, la manageria di Vina Studia, qui in Galleria Commerciale Center. Siamo molto felice di mostrare la mia. E vorrei sapere, Anna, qualcosa di più sulle persone latviano, cosa le piace, cosa non. Inoltre a Revetovati? Non, in ogni caso. Mi sembrava come giornalista, ma non. Vorrei sapere qualcosa in generale. La cultura vina in Latvia è ora in stadio di sviluppo. La gente sta iniziando a avere più e più interesse per i vini. E come ogni cominciatore, in termini di vino, le persone chiedono i vini del nuovo mondo, da Spanio. Non ciliano, non ciliano, non ciliano, perché sono più aperti, più facile da capire. E cosa per i vini italiani? Per loro è più difficile? Sì, italiani vini. Sì, direi che sono più per un migliorato vino. Ma non per l'inizio. Quindi per te, Anna. Oh, grazie. 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 Grazie.